Terminio motori, emozioni su strada, Viale Italia Avellino. Giuseppe Zaolino, segretario Fismic, dopo l'incontro di ieri con Stefano Del Rosso presso la IA, scrive al governatore De Luca e al presidente del Consiglio regionale D'Amelio, in merito alla gara in scadenza il 4 agosto per 305 autobus, esprimendo preoccupazione. La questione è di vitale importanza, dice Zaolino, e può segnare il definitivo decollo di Industria Italiana Autobus. Con l'acquisizione di questa commessa, i 290 lavoratori di Valle Ufita sono coperti per l'intero anno di attività. Siamo convinti che la premialità competitiva per i produttori campani possa fare la differenza e visto il buon esito della gara Emilia-Romagna, siamo certi che la campagna risponderà alla pari. Ci sono le condizioni perché gli over 60, circa 40 persone, se si può immaginare di evitare l'applicazione della Fornero, avrebbero i requisiti per essere accompagnate alla pensione. Questo fatto lo possiamo giocare insieme nel prossimo incontro ministeriale, perché, come abbiamo fatto per 400 persone ex Irisbus, su cui non è stata applicata la riforma Fornero, possiamo riprovarci per queste 40 persone che avrebbero loro la possibilità di andarsene verso la pensione e al posto di questi 40 assumere i primi giovani in questa nuova azienda. Ma nell'incontro tra i sindacati e Del Rosso, presso lo stabilimento di Flumeri, sono state affrontate molte altre problematiche, come la possibilità di ringiovanire la classe operaia o la difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Abbiamo difficoltà anche quando riguarda l'approvvigionamento dei materiali, quindi poco alla volta bisogna trovare i fornitori della zona. Ci sono varie problematiche. Mettere in piedi di nuovo uno stabilimento chiuso è molto difficoltoso. Quindi piano piano, con la collaborazione di tutti e con la responsabilità di tutti, bisogna, e poi abbiamo bisogno di avere dei referenti qui a Valle Ufida, anche per rapportarci giorno dopo giorno, perché ci sono problematiche, sono tante, però piano piano dobbiamo riuscirci. Il nodo rimane le commesse. Questo è quanto.